Riccardo muoviti! Vieni sotto le coperte! Arrivo sotto le coperte ma con il materasso nuovo grazie al sottoprezzo di Riccardo Corredi materassi solo italiani a partire da 99 euro direttamente dalla fabbrica materassi singoli, piazza in mezzo e matrimoniali anche su misura Ma il sottoprezzo è anche sui letti? Materassi, letti e anche poltrone relax Riccardo Corredi, di me ti puoi fidare Vi manca un materasso? Adesso è il momento del sottoprezzo Qualità italiana al prezzo più basso Abbiamo materassi singoli a partire da 99 euro e facciamo tutto la piazza in mezzo matrimoniale Venite nei punti vendita Riccardo Corredi perché di me vi dovete fidare Riccardo Corredi è famoso per la grande qualità al prezzo più basso Questo mese con il sottoprezzo non ci sono più scuse Il vecchio materasso va cambiato e magari anche il letto perché il sottoprezzo è garantito su tutto Le nostre offerte continuano con Francesco e Luca Quando pensiamo alla casa ci concentriamo a fare una bella cucina un bel bagno e magari mettiamo in secondo piano il valore della camera da letto I prodotti di importazione dei grandi magazzini hanno sicuramente un prezzo allettante ma dopo pochi mesi iniziano i cigolii, si rompono le doghe e altrettanti eventi spiacevoli Prima di sbagliare vieni da noi e ti spiegheremo le differenze tra un letto robusto di qualità e un letto qualsiasi Così, se sbagli, io te l'avevo detto Ricorda che siamo artigiani e personalizziamo il letto a tuo piacimento tra modelli, rivestimenti e colori come un sarto fa un abito su misura Mal di schiena? Appena notturne? Ti giri spesso durante il sonno? Se la mattina ti svegli stanco potrebbe essere uno di questi motivi Oggi si trovano materassi anche a 50 euro, ovviamente di importazione Nella nostra linea di prodotti tutti italiani troverai ogni tipo di materasso al prezzo più basso fino ad arrivare alla linea medica Il materasso è la prima medicina Considerando che in media si cambia 4-5 volte e ci passiamo un terzo della vita si capisce che è una scelta molto importante Vieni in negozio a farti consigliare dai nostri specialisti La poltrona è un altro prodotto importante insieme al materasso per stare bene a casa propria Sono nate per chi aveva problemi di mobilità ma nel tempo sono diventate dei veri e propri elementi di comfort e di design Hanno il movimento relax per tirare sulle gambe e stare comodi alla tv guardando il film o la partita tutte le sere La puoi scegliere in ecopelle, in tessuto, il colore che preferisci Consigliamo solitamente di prenderne due per non far litigare moglie e marito Ovviamente per chi ha esigenze di salute le nostre poltrone hanno anche il movimento che ti aiuta ad alzarti in piedi Con il sottoprezzo è il momento di approfittare Venite veloci! Io, Riccardo Corredi, vi aspetto! Riccardo, Riccardo! Riccardo!